Salve amici di contatto, ritorniamo a danzare qui alla casa della musica Caraibi di Via Campana di Pozzuole. Adesso restate immobili, non muovetevi perché dovete seguire queste immagini. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. E si ritorna alla casa della musica Caraibi, è tanta scelta ma soprattutto tanti amici che corrono sempre qui a Via Campana. Un solo nome, Carlos. Buonasera. Grazie, grazie mille. Benvenuti qui al Caraibi a tutti. Un saluto speciale a tutta la gente che guarda con tanto televisivo. È una bella clientela soprattutto perché dopo l'allenamento settimanale in diverse scuole, tornano qui con grande piacere per esibirsi. È vero che è un luogo un po' per tutti. Certo, vabbè. È una referenza latinoamericana ovviamente al Caraibi, rilassando a tutto, a tutta la gente che ci segue. Se viene a divertire, a stare bene, a stare tranquilla. Quindi grande divertimento è quello che vuole la gente. Infatti, possiamo dire a tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa in questo momento, l'unico locale che può davvero far raggiungere tanti amici un po' dappertutto. Sì, ma diciamo che ci sono altri locali sicuramente, però la risposta è molto bella qui, quindi ringrazio a tutti ovviamente. Qui comunque ci si diverte, ci si incontra sempre bella gente soprattutto e poi Carlos realizza sempre tanti eventi per tutti voi. Chi sceglie il Caraibi? Sì, hai detto una cosa molto bella, quello che non succede magari in altri posti, che trovi la persona giovane con la persona magari adulta, è un misto. Ci sta ovviamente questa tranquillità, questa forma di essere, vuol dire che la gente viene a divertirsi. Non guardare l'età, non guardare sicuramente la classe sociale, perché puoi trovare l'avvocato, puoi trovare il commercialista, puoi trovare l'operaio, il compeso. Non significa niente, è un solo obiettivo, divertimento. Quindi possiamo dire che il locale, la casa della musica Caraibi è davvero unico ed è importantissimo comunque avere tanti eventi, per esempio questa sera, altri progetti. Cosa hai in mente? Cosa vuoi regalarci prossimamente? Sicuramente è il meglio quello che succede in Europa, succederà a Napoli. Però stiamo in attesa di questa nuova programmazione, finché non avremo ovviamente i contratti, non possiamo ancora dirlo. Però ci saranno delle sorprese della musica storica che passeranno di qua a questo locale Caraibi, sempre a Napoli. Però se volete informarvi, mi raccomando, pagina su Facebook, un sito, Carlos, lo diamo. Caraibi, Carlos Alcantara. Mi raccomando, cliccate mi piace, entrate in questo fantastico mondo danzante, latino. Allora adesso invece diamo informazioni dove trovare Caraibi. Caraibi si trova a Pozzuoli, Napoli, uscita via Campana 262, stiamo noi. Siamo solamente noi, quindi aspettiamo anche voi, raggiungeteci e guardate queste immagini perché davvero c'è tanta gente. Vabbè, noi le serate fortissime sono martedì e sabato. Poi abbiamo la scuola di palo che comunque è molto richiesta, abbiamo molta risposta, quindi chi vuole imparare può interessarsi qui sul numero del Caraibi 081 526 94 44. Ben detto quindi per tutti gli interessati ad esibirsi qua, ma soprattutto a conoscere meglio il ballo, perché il ballo fa bene un po' alla mente, allo spirito. Dovete solamente formulare questo numero che vi ha appena detto Carlos. Mi raccomando, solamente Casa della Musica. Per voi Caraibi con Carlos è tutto, non ci resta che lasciare i nostri amici e restate sempre in contatto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. No te detengas, no te suavecito pa' que te mantengas Así la vida te da, escucha, así la vida te dura No, no, que va El diablo ya está en la calle, el barrao le mantenga Yo lo vi, y si no podes que rebada Ay, qué pena me vio su vida, qué pena me vio yo al verle Por eso le digo a Lima C'è Luca mantieni il mostro, cominciamo così, si col pollice per dire tutto ok Come stai? Tutto bene, mi sto divertendo moltissimo, sto facendo il DJ Tu sai che da qualche anno io porto avanti questo progetto che funziona alla grande Suono mixo e ho cominciato così facendo il DJ nei villaggi e discoteche da anni fa E con contentezza e estrema soddisfazione il turno a fare il mio primo lavoro, quello di Fish Jockey Suono solo i 70-80 ma rigorosamente con i dischi in vinile Mostra il vinile, mostra il vinile Mostra il vinile, Armando Quindi si ritorna come tanti, ma parecchi anni fa Parecchi anni fa, quando c'avevo ancora i capelli Era bellissimo Quando era affascinante, più di quello che era Sì Armando che devi ritorno? Capellone, capellone No, non ci posso credere, guarda, guarda Direttamente da Londra dove vado a comprare anche i dischi in vinile Le premiere Allora la prossima volta che ritornerai a Londra mi raccomando di farci un regalo Certo, certo, vi porto sicuramente il pensiero Come sempre vi chiedo, salutate il mio fratellone Nick, Nick Paino Saluto Armando, saluto a tutto lo staff di Contatto Television Sono sempre molto legato a voi, viva Contatto Television Gianluca io non ti voglio mullare ancora Perché mi devi ancora dire dei tuoi appuntamenti radiofonici Per far sì che il nostro pubblico non so che ti segue sempre Ogni giorno su Radio Kiss Kiss Radio Kiss Kiss Napoli dalle 4 alle 7 Sono tre ore, scherzi, personaggi, divertimento L'ultima ora dedicata a questo progetto Nel progetto Mandemonio Misso e faccio animazione in onda Ed è una cosa fortissima Grazie a tutti quelli che mi seguono A tutti quelli che mi seguiranno Radio Kiss Kiss Napoli dalle 4 alle 7 Sono pulmine 7 E adesso è delirio contatto Ciao Contatto Che bien te ves Te adelanto, non mi importa chi sia Dìgame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permítemi apprezzare tu estude E termina un'altra bellissima esilarante avventura qui alla Casa della Musica Carai, ma per noi, per le nostre telecamere, ma loro Continuano a divertirsi fino a tardanotte Per rivedere queste immagini, questo video vi basta come sempre cliccare e visitare il nostro sito www.contattotelevision.it Su Facebook ci trovate con il nome di Contatto Television a Napoli, nostra pagina ufficiale Quindi aspettiamo tanti vostri click Mi raccomando amici, dai da piccolo è tutto E di restare sempre in contatto e di seguire ogni nostro servizio